Brutte notizie per Palazzo San Domenico a Modica, la Corte dei Conti con la delibera del 24 luglio scorso ha ordinato di dichiarare il dissesto dell'ente, ma è fiducioso il sindaco, Ignazio Abate. Il contropositivo ieri a Palermo per discutere della vicenda Pubblici Servizi in vertice tra Crocetta e Bianco si è stabilito di analizzare la situazione finanziaria aiutando enti in difficoltà. Taglio del nastro della 43esima edizione della FAM, la Fiera Agroalimentare Mediterranea, questa mattina al Foro Buario di Contrada Annunziata a Ragusa. Celebrato questa mattina il patrono San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato, presenti i vertici delle forze dell'ordine in provincia e la prefetta Maria Carmela Librizi, la quale ha chiarito che solo con la sinergia si possono ottenere ottimi risultati. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, lo avete di fatto ascoltato dai titoli. La Corte dei Conti con una delibera del 24 luglio è stata chiara nei confronti di Palazzo San Domenico, la sede del comune di Modica. L'ente deve dichiarare il dissesto finanziario. Il sindaco della città, Ignazio Abate, però rassicura che abbiamo 30 giorni di tempo per presentare il ricorso e ce la faremo. Tutti i particolari nel servizio del direttore Catiuscia Carpentieri. Sono fiducioso, ho già dato mandato e legali, di presentare il ricorso entro 30 giorni alle sezioni riunite della Corte dei Conti per portare avanti le nostre giuste rivendicazioni. E' il commento del sindaco di Modica, Ignazio Abate, in merito alla delibera della Corte dei Conti del 24 luglio scorso, è recapitata ieri al comune di Modica, in cui si dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'amministrazione comunale sulla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario. Nella delibera della Corte dei Conti si legge che la rimodulazione di un piano di riequilibrio non può costituire un mero escamotage per ritardare la dichiarazione di dissesto. Pertanto, si legge nel documento, in presenza dell'accertamento definitivo della mancanza dei presupposti e delle precondizioni di attendibilità e sostenibilità del vigente piano, l'ente deve senz'altro adeguarsi agli effetti che discendono dall'esito del giudizio sul piano di riequilibrio. Insomma, il sindaco Abbate ritiene fuori luogo questa decisione, ovvero quella di utilizzare un provvedimento emanato dallo Stato per aiutare i comuni che sono in difficoltà. Noi però chiediamo con forza che le nostre giuste rivendicazioni, che possiamo utilizzare le norme che sono messe a disposizione da parte del legislatore, proprio per avere una possibilità migliore di poter ripienare i debiti del passato e del pregresso che abbiamo trovato sulle nostre spalle. Io su questo sono ancora fiducioso e quindi su questo andiamo avanti e utilizzeremo tutte le forme che è possibile e immaginabili che sono messe a nostra disposizione per poter far valere le nostre giuste rivendicazioni. In questo momento tutto è sospeso, quindi non c'è nessuna inibizione per quanto riguarda la spesa e per quanto riguarda l'attività amministrativa dell'ente. Entro 30 giorni presenteremo un ricorso alle Cassazioni Riunite ma anche sul difetto di giurisdizione per quanto riguarda il procedimento stesso. Quindi la nostra attività sarà sempre piena e ci batteremo sempre per uscire fuori da quel tunnel che è iniziato nell'ottobre del 2012. Adesso facciamo un passo indietro nel tempo, andiamo all'ultimo consiglio comunale di Modica quando è scattata una forte diatriba tra il consigliere comunale Tato Cavallino e il presidente della Civica Assise Modicana, Roberto Garaffa, alla base della diatriba. E' una mancanza di responsabilità da parte del presidente, questo a detta del consigliere Tato Cavallino ma non si fa attendere la replica del presidente Garaffa. Guardate. Botta e risposta tra il presidente del consiglio comunale di Modica, Roberto Garaffa e il consigliere comunale Tato Cavallino, che in occasione dell'ultima seduta di consiglio, mercoledì 27 settembre, ha utilizzato toni duri nei confronti del presidente Garaffa contestando alla sua proposta di sospendere la seduta contrariamente a quanta auspicavano il consigliere e maggioranza, come dichiara Cavallino, di rinviare per dare spazio ai dipendenti e ai sindacati in merito alla questione dei ritardi nei pagamenti degli stipendi. Per beche interne, per contrapposizione tra il nostro presidente e il sindaco, che durano da anni, non si può umiliare una città, i consiglieri comunali che eravamo presenti e le organizzazioni sindacali e quindi dipende. Chiede le dimissioni. Ma faccia come vuole, perché ormai siamo arrivati alla fine. Credo che dovrebbe sicuramente modificare il modo di condurre il consiglio comunale. Credo che non si può condurre così. Quando si ripeste quella carica bisogna necessariamente spogliarsi da ogni atteggiamento di critica nei confronti dell'amministrazione e di appartenenza politica, perché si parla del bene della città. Il presidente del consiglio, Roberto Garaffa, dà le sue versioni dei fatti sull'epilogo movimentato del consiglio comunale di mercoledì 27 settembre. Mi ha attaccato dicendo che io da presidente del consiglio mi comporterei non rispettoso del sistema democratico. Ci sono gli atti che parlano. Ogni atto che arriva all'attenzione del presidente immediatamente lo giro a tutti i consiglieri, così che possano avere contezza piena le decisioni che sono del presidente. Il presidente ha il dovere, l'onere di prenderle, perché ovviamente 30 consiglieri hanno delle esigenze diverse. Ho fatto l'appello ai dipendenti in quella sede di rimanere e cercare di dialogare. Hanno avuto la sensazione che la maggioranza e l'amministrazione provasse a spostare il problema. C'è stato questo muro contro muro che io ho cercato di evitare che arrivasse fino a questo punto. Chiudiamo la pagina dedicata alla politica per aprire quella dedicata alla cronaca. Andiamo a Catania. Maxi sequestro è effettuato questa mattina a Messina dalla DIA di Catania e dalle fiamme gialle messinesi. Il sequestro che ammonta circa 10 milioni di euro riguarda un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro che dall'estero è stato fatto rientrare in Italia mediante società create ad hoc. Sara Donzuso. Ammonta diversi milioni di euro il riciclaggio messo in atto a due noti imprenditori messinesi che hanno camuffato questo raggiro dietro le mura di un non complesso immobiliare destinato a una clinica privata. A far luce su questo lo scaffare sono state la guardia di finanza di Messina e la DIA di Catania in un'inchiesta guidata dal procuratore Maurizio De Lucia che questa mattina ha portato al sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro. Riciclaggio e intestazione fittizie sono dunque i reati contestati ai due imprenditori. i fratelli Dino e Aldo Cuzzocrea. Insieme a loro indagato anche Dario Zaccone qual'ex consulente e persona dei fiducia. Pare che l'importante complesso immobiliare sarebbe stato acquistato con non provvisto allo stato non giustificate precedentemente esportate all'estero e successivamente fatte rientrare nel territorio nazionale attraverso la schermatura di società create ad hoc. A far partire l'indagine è stata la Banca d'Italia che ha appunto notato questo strano reggiro di soldi. Due distinte operazioni antidroga sono state portate a termine dai carabinieri delle compagnie di Modica e Vittoria. C'è il bilancio in questo servizio? Due arresti per spaccio sono stati eseguiti in due diverse operazioni dai carabinieri della compagnia di Modica e dai colleghi di Vittoria. Nella prima operazione, eseguita a Scicli, è finito in manetto un 19enne operaio sciclitano incensurato che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. È stato il continuo andirivieni di giovani dalla casa del 19enne a far scattare il blitz dei carabinieri della tenenza sciclitana. All'interno della casa hanno trovato circa 100 grammi di marijuana dentro una busta già pronta per lo spaccio, ben occultata in cucina. Immesso sul mercato, lo stupefacente avrebbe fruttato circa 300 euro. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione del PM Scollo. L'altra operazione invece ha riguardato la città di Comiso, dove i carabinieri ieri mattina hanno arrestato in flagranza di reato un 17enne incensurato per spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso è stato il continuo movimento, dentro e fuori la casa del 17enne, ad insospettire i militari dell'arma. Durante il blitz i carabinieri hanno trovato nella camera del ragazzo sette dosi di marijuana per un peso complessivo di 28 grammi e un bilancino perfettamente funzionante. Il minorenne è stato associato all'Istituto Penale per minorenni di Catania Bicocca. I carabinieri stanno indagando per capire se ci sono eventuali complici e il canale di approvvigionamento oltre alla destinazione dello stupefacente. Ancora la cronaca in primo piano perché la Polizia di Stato di Modica ha deferito all'autorità giudiziaria quattro persone per truffa online. In un caso la vittima ha pagato 199 euro per l'acquisto di una console di videogiochi utilizzando un sito web di acquisti ma purtroppo il venditore non ha mai spedito quanto richiesto. In un'altra occasione invece un sito di scommesse online non italiano ha attinto fondi dalla carta di credito di un utente registrato per un importo di circa 130 euro. Truffato un altro utente per 200 euro. In questa circostanza l'account compromesso del venditore intestato ad un africano ha portato al raggiro dell'acquirente che non ha ricevuto la piscina richiesta né la restituzione delle somme versate. Un modicano invece ha versato 500 euro per l'acquisto di uno smartphone ma è ricevuto. Denunciato 35enne di Pescara per frode informatica sia del telefono che di un drone. Il truffatore pescarese è un soggetto già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti specifici in materia di truffa su tutto il territorio nazionale oltre che per aver commesso una rapina. Sono stati invece convalidati i fermi dei due rumeni arrestati per furti in appartamenti e ricettazione una settimana fa dalla squadra mobile di Ragusa davanti al GIP e al PM. I due rumeni hanno confessato descrivendo tutti i particolari già al vaglio della polizia. Il giudice dunque ha accolto la richiesta del PM trattenendoli in carcere per la pericolosità dei due criminali e la probabile fuga prima della condanna. Immagina una Sicilia che abbia voglia di riscatto. L'onorevole Nello Musumeci candidato alla presidenza della regione siciliana nel centro-destra una Sicilia ha detto ai nostri microfoni che investa sui giovani, che argini il problema dell'immigrazione, che tolga il marcio che c'è investendo su facce e uomini puliti. La Sicilia può e deve cambiare e per farla bisogno di una nuova guida che punti al centro dell'attenzione i problemi dei siciliani che sembrano essere rassegnati a non poter sperare in un futuro migliore. A dirlo il candidato del centro-destra alle elezioni regionali Nello Musumeci che nel corso di un'intervista ha approfondito ai nostri microfoni diversi temi dall'immigrazione all'esodo dei giovani, dall'alleanza alla Sicilia che immagina. La politica si fa con i sentimenti, non con i risentimenti. Il centro-destra si è ricomposto, sono orgoglioso del fatto che si sia ricomposto attorno al mio nome dopo nove anni perché non esisteva più in Sicilia la coalizione alternativa al PD e alla sinistra. Andiamo avanti, ho fiducia nei miei alleati ed ho fiducia anche in chi non ha mai votato per il centro-destra ma stavolta vorrebbe agganciare, legare la propria speranza a qualcuno, a un nome. Tema caldo, Presidente, è quello sicuramente dei migranti. Tutte le coste della Sicilia, da nord a sud, da est a ovest, sono oggetto di continui sbarchi. Possiamo pensare a Pozzallo, piuttosto che a Lampedusa, piuttosto che a Catania. Come si muoverà qualora diventasse Presidente della Regione? Io credo che il Presidente di una Regione frontaliera come la Sicilia debba essere coinvolto nei processi decisionali, almeno sul piano organizzativo. Le grandi decisioni spettano, come è noto, ad organismi sovranazionali, internazionali. Ma io posso chiedere al Governo centrale di essere nominato commissario per l'emergenza e immigrazione in Sicilia. Incontro positivo ieri a Palermo per quanto riguarda l'avvertenza della Publi Servizi di Catania. Nuovo passo avanti positivo per la Publi Servizi. Ieri, come annunciato dal prefetto Ettenneo, Silvana Riccio, qualche giorno fa, si è tenuto un vertice a Palermo, al quale ha partecipato sia il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che il Sindaco della città metropolitana Ettennea, Enzo Bianco. Entrambi hanno definito proficuo l'incontro, poiché sono stati esaminati i criteri di riparto del contributo straordinario ai libri consorsi, basato sui livelli di difficoltà oggettiva degli enti. Sulla base di queste valutazioni, il Presidente ha dato mandato al Direttore degli enti locali di acquisire tutte le informazioni necessarie, relativa all'ammontare dell'avanzo per le città metropolitane e liberi consorsi. Quasi certamente tale acquisizione porterà una più equa ripartizione, privilegiando enti in maggiore difficoltà, come ad esempio Siracusa, Ragusa e Catania. Dall'accanto suo Enzo Bianco ha ringraziato il Governatore per aver ascoltato con attenzione quanto riferito in merito alla delicata situazione economica dell'ente e in particolare alla necessità di un intervento forte per il salvataggio e il rilancio della Pubblici Servizi. Infine il Presidente Crocetta ha manifestato la volontà di incontrare insieme al Sindaco Bianco i dipendenti alla Pubblici Servizi dopo l'attuazione dei provvedimenti. Da Catania a Ragusa dove ieri i docenti della scuola Mariele Ventre hanno raggiunto la sede dei servizi sociali e dell'assessorato all'istruzione del Comune di Ragusa per parlare con l'assessore al ramo Gianluca Leggio per chiedere di riportare le professionalità delle attività integrative del doposcuola all'interno delle scuole ragusane. Guardate. Docenti amareggiate per aver visto sottrarre alla loro scuola, la loro seconda casa in sostanza, figure professionali che davano un contributo concreto ed attivo all'offerta formativa della scuola Mariele Ventre di Ragusa. Ieri un incontro alla sede dell'assessorato all'istruzione alla presenza dell'assessore al ramo Leggio che ha visto genitori, bambini, docenti chiedere a gran voce di riavere le insegnanti comunali, ovvero il personale addetto alle attività integrative e dopo scuola. Le insegnanti hanno chiesto in sostanza a Palazzo dell'Aquila di tornare sui propri passi. In sostanza il Comune di Ragusa ha richiamato a sé il personale che aveva messo a disposizione delle scuole da oltre 30 anni. Lo ha fatto, ha dichiarato l'assessore Leggio, perché due nidi comunali rischiavano di chiudere ed ha scelto di impiegare le maestre in quei nidi. Ma non tutte. Solo sei delle diciotto figure professionali sono state ritenute, a seguito di accertamenti, idonee ad esercitare la professione negli asili nido. Le altre dodici, impiegate in diverse uffici del Comune, dove stanno imparando a svolgere un nuovo lavoro, dopo che per 30 anni ne hanno svolto un altro. Le docenti della Mariele Ventre, scuola che godeva di tre figure addette alle attività integrative, ieri hanno ribadito come l'azione amministrativa sia stata uno scippo all'offerta di servizi della scuola. Ieri le docenti hanno chiesto all'assessore almeno di poter valutare l'ipotesi di far rientrare le figure professionali previa presentazione di progetti. Leggio ha aperto all'ascolto, ma non si sbottona più di tanto sul futuro, facendo intuire che la prospettiva futura sarà conforme all'attuale realtà. È volontà dell'amministrazione Piccitto pensare, quantomeno valutare, che le sei persone che sono state impiegate negli asili nido continuino lì e le dodici invece che sono state collocate in altri uffici possano invece essere messe a disposizione, le loro professionalità possano essere messe a disposizione della collettività racusana nelle scuole e quindi queste persone potrebbero essere punti di riferimento per progetti da destinare a tutte le scuole del territorio di Ragusa, dato che lei, come ha più volte sottolineato durante il tavolo di concertazione, puntate sull'istruzione voi dell'amministrazione Piccitto. Allora c'è una sensibilità massima nell'ambito delle istruzioni. Per rispondere un po' alla sua domanda, ritengo che queste sono state delle risorse e continueranno ad essere delle risorse per quanto riguarda la collettività. Quindi si tratta di personale qualificato che è stato impiegato in varie mansioni e sono convinto che potranno dare quel supporto necessario al fine del bene comune. Quindi lei mi sta dicendo che non valuterete di impiegarle come professionalità per le attività integrative e il dopo scuola. Lei mi sta dicendo questo, giusto? Allora noi in questa fase, le ho detto, in base alla delibera di giunta c'è la cessazione del servizio delle attività integrative. Però parallelamente noi stiamo valutando anche alcuni progetti perché effettivamente c'è un calo e c'è anche una scarsa attenzione a livello nazionale per quanto riguarda le dinamiche relative alla scuola. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone è molto chiaro, nessuno tocchi il Busacca, intanto si attende un consiglio comunale aperto a cui dovrebbe partecipare anche il manager dell'Asp Ficarra. Il Busacca non si tocca, lo avevo detto in campagna elettorale e adesso da sindaco farò in modo che non venga scippato nulla al nostro nosocomio. È un sindaco Giannone che non guarda in faccia a nessuno e che corre dritto per la sua strada in difesa della sanità a Scicli. Il sindaco Giannone ai nostri microfoni ha spiegato che a conclusione della conferenza dei capigruppo che si è tenuta mercoledì scorso è stato convocato un consiglio comunale per discutere di sanità. La civica assise si riunirà il 3 ottobre 2017. In quell'occasione dovrebbe essere presente in quanto invitato il manager Ficarra. C'è un nuovo piano sanitario regionale che prevede per l'ospedale Busacca l'attivazione di una serie di servizi e di unità operative e la rifunzionalizzazione, definiamo così, del pronto soccorso. Siccome abbiamo appreso dalla stampa peraltro, io di questo mi sono lamentato con il direttore generale, il nuovo direttore generale, dottor Ficarra, un sindaco credo che abbia il diritto di sapere direttamente, essendo l'autorità sanitaria nella sua città, che cosa accade in un ospedale, abbiamo appreso appunto che era in atto un ridimensionamento se non di fatto una chiusura del pronto soccorso. Chiaramente non sono d'accordo, non sono d'accordo i consiglieri comunali, tant'è vero che è stato convocato un consiglio comunale per martedì sera. Noi diciamo che in maniera molto aperta, tollerante, disponibile, siamo disponibili a parlare di tutto, però all'interno di quello che è previsto nel piano sanitario regionale. Quindi prima si attivino tutti i servizi del piano, tutte le unità operative del piano e poi si può parlare della rifunzionalizzazione del pronto soccorso sulla base delle esigenze intanto della città di Sicilia. Nelle prossime settimane sarà resa più sicura la zona circostante, la Santissima Annunziata, in particolare nelle vie Gargallo e Tasso ad Ispica potenziando l'illuminazione pubblica, lo assicura il sindaco Pierenzo Muraie, dopo le sollecitazioni dei residenti per contrastare inciviltà e maleducazione da parte dei giovani che si spogano con atteggiamenti e condotte volgari ed inappropriate. Inoltre, assicura il sindaco, saranno effettuati maggiori controlli per garantire la serenità di tutti e il rispetto delle più elementari norme di civiltà. L'inaugurazione della FAM questa mattina a Ragusa. Sul posto per noi, Viviana Sammito. Rilanciare i settori zootecnico, agricolo e florovivaistico riparte da qui il rilancio di questa grande economia iblea con la 43esima edizione della FAM, la Fiero Agroalimentare Mediterraneo che ha aperto i battenti questa mattina incontrata annunziata al Foro Boario con il taglio del nastro da parte della prefetta Maria Carmela Librizi. 25.000 m2 di spazio dove sono ospitate 55 aziende della meccanizzazione con 6.500 m2 di esposizione in uno spazio aperto, 56 aziende agroalimentari, 8 dell'utensileria, 10 florovivaistiche, 20 aziende del settore agricolo e della zootecnia, 270 i capi di bestiama appartenenti alla razza bovina modicana. Guardiamo veramente con ottimismo a questo futuro che potrà essere di sviluppo anche per questa manifestazione che comunque con la 43esima ha raggiunto veramente il top di questa curva crescente che si ripete ormai da tantissimi anni. E' una fiera che si merita sicuramente un futuro, se lo meritano le imprese che ci credono, se lo merita la manifestazione che è ormai la più importante del meridione d'Italia. Un momento anche per riflettere sul settore che necessita di cure, di attenzione, anche di investimenti perché i nostri elevatori riescono malgrado tutte le difficoltà, la concorrenza, i costi di produzione comunque a rimanere sul mercato, a fare dei prodotti eccezionali, i nostri DOP. È stata una vera crisi nel settore geotecnico, l'abbiamo visto con il fallimento dell'ARAS. Secondo lei questo può essere un punto di portenza? La fiera è qui, è viva e vegeta e si proietta verso il futuro con una grande camera, questa grande camera in cui queste attività dovranno essere più redditizie perché oltre che si rivolgersi agli operatori ed avere come protagonisti gli operatori, è una fiera che si rivolge anche ai consumatori. Nonostante la grande crisi economica, soprattutto il settore zootecnico che era il ferro all'occhiello dell'economia iblea, molte aziende vogliono ripartire da qui, proprio dalla FAM che per loro rappresenta una vera e propria vetrina. È una situazione preoccupante perché scontano probabilmente più che in altre aree del paese un gap di competitività, un gap difficile da colmare, mi riferisco a tutte quelle che sono anche il sistema infrastrutturale, al costo del lavoro, al costo anche dei carburanti, al costo dell'energia. Spazio anche al villaggio Avicolo in Fiera, il meglio dei Mangimi, ma anche Pollo e Uova, una grande opportunità per le aziende che sono il vanto della provincia e che sono conosciute in tutto il territorio nazionale. Per lo svolgimento della Fiera Agricola del Mediterraneo il Comando della Polizia Municipale ha predisposto un servizio gratuito di busto navette con partenza dall'Ipercop a partire dal 30 settembre, dalle 14.30 alle 22 e il 1 ottobre, dalle 8.30 alle 22. Celebrato San Michele Arcangelo a Ragusa. Ragusa ha reso omaggio al santo protettore della Polizia di Stato San Michele Arcangelo stamattina con la celebrazione della messa del Vescovo Monsignore Carmelo Cutit nella chiesa barocca dell'Ecceomo insieme con il cappellano della Polizia di Stato Don Giuseppe Ramondazzo. Alla cerimonia religiosa erano presenti le più alte autorità e tutti gli uomini e le donne della questura e dei commissariati della provincia. Nel corso dell'omelia il Vescovo, esprimendo applauso per il lavoro svolto alle forze dell'ordine, ha invitato tutti a sentire ed a fidarci, ha detto, a questi spiriti eletti che Dio ci ha mandato per guidarci nel cammino di ogni giorno. Attraverso gli angeli e gli arcangeli, infatti, Dio ci protegge e ci esorta tutti a prenderli come vero esempio di vita. La prefetta Mara Carmela Librizi ha sottolineato l'importanza e l'efficacia della sinergia nella prevenzione e repressione dei reati per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. San Michele Arcangelo ha il simbolo del bene che prevale sul male, che ha anche il ruolo quotidiano di un appartenente alle forze dell'ordine nell'assicurare alla giustizia e malfattori. Questa è una delle tante occasioni in cui si attesta questa vicinanza alle forze dell'ordine che sono vicine a noi per tutelare il bene della collettività e quindi sotto l'egida di San Michele oggi è un'ulteriore manifestazione di gratitudine e di apprezzamento nei confronti di tutte le forze dell'ordine e della Polizia di Stato. Per quanto riguarda le misure di sicurezza che sono state messe in campo in occasione delle manifestazioni, gli spettacoli durante la stagione estiva, evidentemente c'è da fare un plauso anche alle amministrazioni comunali che hanno aderito a quelle che sono le nostre richieste e quindi nello spirito comune di far sì che le manifestazioni si svolgessero in assoluta tranquillità solo per il bene dell'utenza. E' una noto che convince tutti i turisti. Si registra il più 30% in riferimento ai flussi turistici nella città simbolo del barocco siciliano. Noto, a prescindere dalla candidatura a Capitale della Cultura 2020 insieme agli altri comuni del Val di Noto, si conferma meta turistica amatissima. Scatta infatti il più 30% turistico per la città simbolo del barocco siciliano, una città amata dai turisti per le bellezze architettoniche e per la vasta offerta enogastronomica, perfettamente coniugata alla tradizione. A proposito della tradizione, Noto è stata presa letteralmente d'assalto da turisti e curiosi in occasione di due grandi eventi. Da una parte l'Infiorata e dall'altra le celebrazioni del Santo Patrono, San Corrado con Falonieri. Eventi che Video Mediterraneo ha portato all'interno delle vostre abitazioni con la conduzione di Salvo La Rosa, Sara Donzuso e Alessandra Brafa. Un boom turistico in cui crede e continua a lavorare affinché possa aumentare in modo ancora più considerevole l'amministrazione Bonfanti. Ad esprimere soddisfazione per il risultato conseguito è stata l'assessore al turismo del comune di Noto, Giussi Solerte. Siamo molto soddisfatti, devo dire che è stato fatto un gran lavoro. Questa amministrazione è anche quella precedente, è sempre Bonfanti, ha lavorato molto sulle operazioni di marketing per veramente consolidare questo brand che ormai è lanciato a livello non soltanto nazionale ma anche internazionale. Quando si parla di Noto tutti rimangono a bocca aperta ma soprattutto per la politicità della nostra offerta perché al di là degli bellissimi monumenti, quindi della storia, della tradizione architettonica abbiamo anche le grandi riserve naturali, abbiamo anche il turismo balneare e in più adesso un'offerta culturale che veramente non ha precedenti con un pullolare di iniziative, di mostre, di appuntamenti importantissimi che non possono far altro che richiamare sempre più gente e lassare soprattutto soddisfatta la gente che viene a Noto che cerca un'offerta molto alta qualitativamente parlando e devo dire che poi le aspettative non sono tradite. Una festa di compleanno per festeggiare i 40 anni di radio RTM a Modica. I festeggiamenti avranno luogo questa sera alle 21 in piazza Matteotti in città nel 1977 dall'intraprendenza di alcuni imprenditori locali tra cui Pietro Santaera, Carmelo Carpentieri, Giuseppe Azzarelli, Nino Scivoletto, Maria Gennaro, Maria Sortino e il tecnico Nello Avolio. Radio RTM divenne è ben presto un punto di riferimento nell'informazione e nell'intrattenimento in tutta la provincia di Ragusa. Ricordiamo l'appuntamento è alle 21 in piazza Matteotti a Modica. Ed era questa l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, sono le 14.50, ci fermiamo qui. Grazie per averci scelto la prossima edizione, come sempre alle 20.30. Grazie per averci scelto la prossima.